costruiresti la tua casa sulla sabbia la sabbia delle cose effimere e facilmente trovabile per chi cerca il proprio bene e nel suo egoismo si accontenta di quelle poche emozioni che questa sabbia gli offre senza arrivare a desiderare di più ma questo non porta la felicità la felicità si costruisce sulle basi di un amore duraturo che non cambierà alla prima sferzata di vento che resterà fermo anche durante le più grandi tempeste della vita se costruiamo la nostra casa sull'amore di dio che è cristo possiamo allora essere sicuri di trovare la pienezza della vita su che elementi vuoi costruire la tua casa spirituale quali sono le tue rocce oggi trova un elemento che nella tua vita è sabbia e lotta per contrastarlo